Sul treno della santificazione di padre Stefano Maria Manelli La santità è Dio. Chi è Dio infatti? Dio è l'essere perfettissimo, risponde il Catechismo con San Pio X, con San Buonaventura, Dottor Serafico e con tutti i santi della Chiesa. Ma Dio è amore. Giovanni 1,4-8 dice l'Evangelista San Giovanni ed è l'amore infinito. Dunque, se la santità è Dio e Dio è amore, significa che la santità è amore, ossia che essa consiste nell'amore che si realizza in amore. Qual è infatti il massimo e primo comandamento di Dio per noi uomini? Questa è la risposta di Gesù stesso. È il comandamento di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Matteo 22,37 Anche il secondo comandamento è simile al primo. Dice ancora Gesù stesso, amerai il prossimo tuo come te stesso. Matteo 22,39 Ma uomini e donne che cosa fanno invece? Gli uomini e le donne, purtroppo, su questa terra non pensano affatto a diventare santi e sante, eccetto pochissimi. Noi possiamo sempre rallegrarci, è vero, ricordando i santi apostoli e i molti santi martri, ricordando San Benedetto e Santa Scolastica, San Francesco e Santa Chiara d'Assisi, San Giovanni della Croce e Santa Teresa di Gesù, San Francesco di Sales e Santa Margherita Maria alla Coc, San Alfonso Maria degli Iguori e Santa Gemma Galgani, San Pio da Pietrelcina e Santa Teresa di Calcutta, con i due santi pastorelli di Fatima, Francesco e Giacinta. Ma quanti altri uomini e donne, giovani e bambini potevano e dovevano diventare santi e sante e non sono diventati? Come mai? Perché mai? La risposta a questi interrogativi è brutta e dolorosa. Gli uomini e le donne non si fanno santi perché vogliono essere egoisti, anziché amare, vogliono preferire l'egoismo all'amore. E perché questo? Solo perché l'amore è nobile, è prezioso e perciò costa al nostro egoismo, che è invece comodo, piacevole, animale. Sì, l'amore e l'egoismo in noi si oppongono. L'uno esige il rinnegamento dell'altro e si preferisce rinnegare l'amore anziché l'egoismo. Si preferisce la carne allo spirito, l'animale allo spirituale. L'uomo animale non può apprezzare le cose che sono dello spirito di Dio. Prima Corinti 2,14 Insegna con forza San Paolo Per questo i santi e le sante sono pochissimi. Perché si preferisce l'egoismo, amando solo se stessi, anziché preferire l'amore a Dio e al prossimo, rinnegando l'egoismo. Poveri uomini e donne che non diventano santi e sante contro la volontà di Dio che li vuole tutti santi. Come si troveranno al giudizio di Dio? Il binario è il treno della santità. Al santo curato da Ars, un giorno qualcuno chiese Che cosa ci vuole per santificarsi? Il santo rispose Ci vogliono la grazia e la croce. Si parte dunque dalla vita vissuta sempre con la grazia divina nell'anima, senza più il peccato mortale, e con la lotta continua contro i peccati veniali volontari e semi volontari, via purgativa e illuminativa. Non bisogna quindi contentarsi di stare soltanto in grazia di Dio. È necessario combattere tutti i peccati veniali, sia volontari che semi volontari, perché sono tutti offese, anche se piccole o minime, a Dio amore. Santa Gemma Galgani diceva giustamente che preferiva mille volte la morte, piuttosto che un peccato veniale, perché un bricio di grazia divina vale più della vita, come prega il Salmo 63,4. E noi invece, fra nervosismi e impazienze, curiosità e parole inutili, quante debolezze e negligenze forse ogni giorno. Ricordiamoci invece che la vita di grazia si indebolisce con i peccati veniali, mentre si rafforza con gli sforzi di crescita delle virtù, nella lotta contro i difetti. Come si va avanti con la crescita delle virtù? Bisogna innanzitutto puntare ogni giorno sulla preghiera e sulla penitenza. Per santificarsi in effetti esiste appunto un binario della santità. Ogni binario, si sa, è costituito da due rotaie su cui cammina il treno. Qui il treno è la santificazione che va avanti sulle due rotaie della preghiera e della penitenza. Ricordiamo l'Immacolata con la corona del Rosario in mano a Parsalourde. Che cosa raccomandò a Santa Bernadetta? Raccomandò appunto la preghiera e la penitenza. E che cosa la Madonna del Rosario raccomandò a Fatima, ai tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta? Raccomandò ugualmente e ancora più la preghiera e la penitenza. Il treno della santificazione. Ecco dunque le due rotaie che costituiscono il binario della santità su cui deve camminare il treno della santificazione. La prima rotaia è la preghiera, la seconda è la penitenza. Le rotaie sono due perché soltanto su due rotaie insieme il treno va avanti. La preghiera e la penitenza quindi avanzano sempre insieme o si fermano sempre insieme. Ma chi può salire su questo treno della santificazione? Possono salire tutti coloro che hanno la grazia di Dio nella loro anima per diventare davvero santi. Che cosa possono fare invece coloro che vivono il peccato mortale? Essi debbono prima confessarsi bene, ricevere la soluzione dal confessore e impegnarsi a vivere sempre in grazia di Dio per volersi santificare come vuole appunto il Dio. La nostra buona volontà di diventare santi infatti è assolutamente indispensabile per fare la volontà di Dio che ci vuole santi. Si parte con la grazia di Dio nell'anima dunque, come dice il santo curato d'Ars, salendo sul treno della santificazione che è appunto il treno della volontà di Dio che vuole la nostra santificazione per poterci portare nel suo paradiso dell'amore infinito ed eterno. Sul treno della santificazione bisogna far crescere la nostra vita di grazia divina vincendo tutti i nostri peccati veniali e difetti con la quotidiana preghiera penitenza che formano la nostra croce, come dice appunto il santo curato d'Ars, per aiutarci a vivere dell'amore a Dio e al prossimo, rinnegando ossia mettendo sotto i nostri piedi l'egoismo che viene dal demonio, nemico dichiarato dell'amore di Dio e del prossimo. Avanti dunque, è santo viaggio per coloro che vogliono farsi santi come vuole Dio, rinnegando l'egoismo per vivere soltanto e sempre l'amore a Dio e al prossimo. Grazie. 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 Grazie.